Vi chiediamo solo un po' di pazienza. A due giorni dall'inizio della raccolta differenziata che prevede un sistema più organizzato per lo smistamento e il conferimento dei rifiuti, la città di Comiso sta rispondendo benissimo. Così il sindaco Maria Rita Schembari aveva commentato all'inizio della scorsa settimana l'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata nella città casmenea. Possiamo già dire, aveva spiegato ancora il primo cittadino, che su dieci nuclei familiari otto differenziano bene. Per questo motivo la mole di rifiuti ben differenziata è aumentata di molto. Qualche problema in verità si è registrato sabato, in occasione della raccolta di indumenti usati, oltre 1500 kg raccolti e soprattutto dell'umido, anche se nella pagina Facebook dell'amministrazione comunale è stato prontamente spiegato che la raccolta dell'umido è andata a rilento a causa di alcuni cittadini che erroneamente hanno utilizzato sacchetti neri al posto di quelli biodegradabili. Oggi si replica con l'umido, con il mastello marrone, il sacchetto biodegradabile e con le lattine, mastello verde senza sacchetto. Dal punto di vista delle prospettive, il primo cittadino, qualche giorno fa, aveva invitato alla massima serenità. Stiamo cominciando tutti insieme e come i cittadini necessitano di organizzazione per un determinato periodo, anche noi ci stiamo organizzando a seguito di una grande risposta di civiltà da parte di tutti i comisani. Collaboriamo insieme perché i risultati sono già ottimi.